Stella e le sue avventure, nuovi amici. Evviva! Finalmente si parte per una nuova avventura! Cosa succede? Cos'è questo rumore? Cosa sei tu? Sono un razzo! Non ho mai visto un razzo! Ma davvero! Io sono Razzo, la cosa più super veloce che esiste in tutto l'universo! E allora dimmi, che cosa ci fai qui? Mi hanno lanciato! Lanciato? Che cosa vuol dire lan... lanciato? Adesso te lo faccio vedere! Azione! Propulsione! Lancio missile su mini meteorite! Oh! Ma sei bravissimo! Lo posso fare anch'io! No! Perché no? Perché sei una stellina! Però puoi brillare super tantissimo e illuminare il buio che ti circonda! E se chiudi gli occhi forte forte e ti muovi, brilli ancora super più tantissimo! Lo faccio subito! Lo faccio subito! E' super tantissimo bello! Ma dimmi una cosa! Tu da dove sei stata lanciata? Io sono sempre qui! Questo è il mio posto! Ma perché ti hanno lanciato? Perché gli uomini mi usano per esplorare l'universo! L'universo? Che cos'è l'universo? Ma non la smetti mai di fare domande! Io sono una mini stella, nata da pochissimo! Non so tante cose! Allora forza! Sali a bordo! Ti farò fare il giro più super veloce di tutto l'universo! Allaccia le cinture! Si parte! Si parte! Wow! Che bello! Razzo e stella lanciati nell'universo! Razzo e stella lanciati nell'universo! Grazie! 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 Grazie!